Weekend è davvero interessante per il padel in provincia di Messina. Oggi e domani al Sama Padel Club di Torrenova si giocheranno le finali della fase provinciale del Premier Padel, il più importante torneo italiano con il master che si terrà al Foro Italico di Roma il prossimo giugno. Siamo orgogliosi di ospitare una tappa di qualificazione per il Premier Padel di Roma, l'evento più importante dell'anno in Italia del padel. Siamo l'unico club a ospitare la tappa provinciale per la provincia di Messina. Posso annunciare anche con fierezza che è il torneo con più alto numero di iscritti della regione siciliana, nel maschile e nel femminile, quindi siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato. Sono dei tornei che si sviluppano per la quarta e la terza fascia nazionale italiana, qualificazione del torneo di quarta, passano al torneo di terza, e la vincitrice, superando praticamente le nove coppie, qualifichiamo due squadre ogni categoria, quindi due coppie maschili e due coppie femminili, dal tabellone regionale. Probabilmente sarà nella provincia di Catania o di Siracusa, porterà una o due rappresentanti sempre ogni otto coppie al nazionale, quindi a Roma, per le quali del Premier Padel. E la vincitrice, o comunque le vincitrici, le finaliste del tabellone regionale, avranno anche a disposizione un monte premi di 5.000 euro, quindi per le coppie che si qualificano è anche un bel bottino. Siamo in continua crescita, da questo mio ruolo in poi sarà, mi permetto di dire, ancora meglio, nel senso che voglio creare una rete abbastanza unica, nonostante la provincia sia abbastanza distesa, però con Antonio sto cercando di individuare vari punti di riferimento nelle zone, e lui sarà uno di questi appunto della zona, per creare una rete più efficiente, più numerosa. Per quanto riguarda il ruolo che avrò, invece farò anche dei giri per un talent scouting, quindi già dal primo raduno che ci sarà a Giovanile cercheremo di veicolare ragazzini anche da molto lontano, perché grazie a questa mia nuova carica abbiamo un centro periferico allenamento proprio a Messina. Il Paragono è fatto, è sempre fatto col tennis, Messina ha una storicità tennistica di ottimo livello, il tennis e vela quest'anno ha vinto lo scudetto, in Serie 1 ospiteremo la Coppa Davis, e diciamo che stiamo provando a fare un passo verso, quindi sarà una mia grossa responsabilità, cercare di coinvogliare più gente possibile, under anche, verso questo splendido sport. L'amatorio è tutto pronto, rispetto al tennis la parola che contraddistingue questo sport è facile, è facile nel senso che all'inizio, rispetto al tennis, magari col fatto che si gioca in due, gli spazi da coprire sono un po' più ridotti, è divertente già da subito.